non perde voglia vai non te lo mangia dai e che cavolo che manca il sangue e che cazzarola e fischiale prima o a ridaglie fuori gioco bar goal gol dalle e mezzo ma porca di quella che si è maniato mi pareva un po troppo il pietà di correa in due minuti era chiedere troppo passare ne va sono tre contro otto oddio se correa segnava l'antina volta era l'unico l'unico in mezzo a otto libero radu sta a cogliere mele vabbè lirola 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 ma mai non fa un passaggio giusto non fa un passaggio giusto si mette che tardi si mette che tardi ma che cazzo non lo fa questo ma che lei di milinkovic ma per chi ma questo fa certi cambi o bo lei è milinkovic il colosso a centrocampo tu me lo levi sei un genio per fare in tra parola che contro il certi che ha fatto più danni che altro vabbè va senza fallo e cacchio che si so tanta dentro a sta aria oh 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 oddio questo mu fa la scivolata mazza mamma mia perché tira e come fa come fa a pensare di fa go ci stava che sto per lì fuori ma cosa ma perché ma dalla sotto a lazari no tira che te tiri dai dai però credetecci c'è ragazzi luca cuorri c'è 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 dai mamma mia mamma mia ciro sì su un fallo come è stato fischiano vabbè tanto lo vanno a rivedere eh su un fallo come è stato fischiano che deve fare questo decide lui ha indichi poi non indichi ma va a vedere c'è il bar va a vedere a che ora finisce 95 e 96 sì però adesso a partire da ora è il 91 non capisco vai vai che è nostra dal lukaku vai ma no manca ho visto dai calcio di rigore rosso vabbè era niente scusso e ne guarda che si era brutto Kaiseto ma ti pare il mobilo fa a tirare Kaiseto ha detto quello ma non scusso ma che davvero ma fammi dire il mobile no ma perché Kaiseto ma io voglio il mobile cavo cannoniero e tu mi fai dire Kaiseto no ma ma dire no no 96 minuti 23 secondi boh ma dai Kaiseto porca mannaggia mannaggia non è possibile ma quanto manca a finire sta partita che vuol dire ma quanto manca a finire sta partita ma io dico no ma perché l'ha tirato Kaiseto ma Sam ma perché non li fate tirare a quelli che li devono tirarsi i rigori ah tanto mancano 20 secondi ma è possibile sbagliare due rigori in tre partite ma è possibile guardate regà non ce la posso fare no regà non ce la posso fare fa finire sta partita per fuori ma io vorrei sapere quanto manca non ci so capire niente oddio non ce la posso fare dai fischia sta manno 98esimo quanto devi andare avanti sta partita oddio fuori gioco sei ritardato mamma mia grazie a dio non ce la faccio più non ce la faccio più non ce la faccio più fischiato mamma mia ragazzi mamma mia che sofferenza oh non mi prega niente se quella la fallo c'era rigore a primo tempo